TASCHINA NERG porta caricatori da calcio. Sono presenti tre fori autosvotanti per la ritenzione dei liquidi, attacco a velcro doppio, passanti metallici e aggancio per eventuale tracollo. Questa parte qua, questa striccetta finale, blocca il calcio. Studiata per calci Bust Master, ideale anche per calci tipo Crane. Facile il fissaggio. Capiente, comoda, chiusura a velcro, ottima cordura, non impedisce l'utilizzo del calcio.